Allora, di cosa stavamo parlando poc'anzi? Di cosa parlavamo poc'anzi? Il singolo è uscito e l'album è finito? L'album è finito, è in stampa, uscirà il 14 novembre Si chiamerà Italiano Medio Italiano Medio? Esatto Quel medio, quel medio Esatto, quel medio E' un disco dove abbiamo fatto... Cioè non c'è un corista, non c'è una partecipazione C'è tutto nostro C'è tutto nostro Ci siamo solo noi Ci siamo solo noi In questo disco Io e Ax Abbiamo oltre a noi la banda che suona Ma l'avete fatto per risparmiare dei soldi? Vogliamo dire che canta anche Jed Ed è per quello che sarà più bello Sarà per quello Questo non lo so Io sono appagato del lavoro comunque Ho capito Sono soddisfatto Dopo questa performance del DJ Jed Gli articolo 3-2 si scioglieranno ognuno di 20 Ma cosa sta dicendo? Ma dove che sta dicendo? tiếcano Paolo Grazie a tutti.